mi raccomando questa è la prima guida fai tutto quello che ti ho detto accendi la macchina pigia la frizione metti a folle perfetto adesso controlla lo specchietto retrovisore aggiusta la lo specchietto perfetto il sedile sta a posto perfetto allora siamo pronti per partire prima di partire mani sullo sterzo alle 10 e 10 piano piano frizzi e partiamo ma partiamo le mani sullo sterzo le dice dieci sono le dieci altri dieci minuti scendi qua nel box sta la bicicletta grazie a tutti